ho voluto chiedere all'intelligenza artificiale installata direttamente nel mio server come vede il futuro del mondo naturalmente delle valute digitali come l'euro digitale all'interno della banca centrale europea bene la risposta a questa domanda è stata questa naturalmente ho modificato chiesto anche ad altri modelli e la risposta non cambia il disegno sì eccolo un'altra addirittura un'altra ancora fino ad arrivare a un modello completamente che non si capisce si vede soltanto una città distrutta con dei simboli alieni link descrizione per iscrivervi al canale youtube ciao